buongiorno buonasera a seconda ragazzi oggi vi parlo di un orologio a mio parere realmente molto interessante ma bisogna dire la verità anche con zero personalità perché perché un clone un omaggio palese ha una referenza invece molto importante ovvero il doxa 300t ragazzi il brand si chiama cistern è un orologio davvero ben realizzato che arriva chiaramente dalla cina lo trovate su aliexpress infatti aliexpress me lo ha inviato mi ha omaggiato di questo prodotto per poter fare la recensione vi ha dato anche un codice sconto che metto qua in descrizione insieme al link diretto su aliexpress mi raccomando ragazzi seguite la recensione fino in fondo perché nelle conclusioni vi spiegherò secondo me il incredibile rapporto qualità prezzo di questo prodotto prima andiamo a vedere quello che è il packaging come tutti i brand diciamo così cinesi che hanno anche uno store ufficiale su aliexpress molto spesso la confezione questa ovvero un astuccetto abbastanza cheap un po banale in questo caso con l'indicazione cistern con quattro punti di chiusura devo dire che è piuttosto rigida cioè ci bisogna mettere un po di forza applicare un po di forza per aprire la confezione una volta aperta troviamo una componente spugnosa e su questo è adagiato chiaramente l'orologio una componente cartacea barra plasticosa card di garanzia eccetera e in questo caso un tool che serve per andare a regolare in autonomia quello che il bracciale devo dire che non funzionerà probabilmente si romperà subito devo dire che il packaging non è nulla di stupefacente l'orologio ragazzi è bellissimo almeno per quanto riguarda il layout estetico chiaramente come detto privo di personalità perché questo è il layout estetico del l'orologio al quale questo si ispira o che immaggia palesemente ovvero il doxa sub 300 t nella versione sea rambler quindi quella con silver dial e punti arancione ragazzi molto diversa dal doxa 300 che ha un po più vintage eccetera 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 per quanto riguarda la lavorazione di questo orologio è davvero molto molto alta per il prezzo abbiamo una diciamo così lato alto rivolto verso il nostro sguardo una spazzolatura molto fine a sapor di seta e lucidature lato cassa ragazzi quello originale in questo punto esatto ha anche la valvola dell'elio le dimensioni anche in questo caso vanno a riprendere più o meno quelle del doxa ovvero abbiamo un 38.5 di diametro su lunetta 42.5 di diametro su cassa una 20 come distanza fra lancette un lag to lag di 46 e uno spessore che di circa 14 mm in questo caso il vetro non è bombato così come non lo è nel 300 t a differenza del 300 che invece è una bella bombatura una cassa anche un po diversa è il momento di fare l'analisi di quella che è la parte a contatto con il polso di questo orologio ritroviamo sia retrocassa che su fondello una spazzolatura molto fine e ben realizzata abbiamo le solite indicazioni per quanto riguarda il fondello e tra queste anche il dato di water resistant ovvero 20 atmosfere che si traducono in 200 metri ricordo che l'originale quindi il doxa si parla di 1200 metri mi piace tantissimo chiaramente lo vedete questo è un fondello stampato e mi piace tantissimo quella che è l'immagine impressa nella parte centrale del fondello ovvero questa enorme onda che sembra stia per andare a inghiottire inglobare questa piccola stella marina davvero piacevole torniamo a girare l'orologio ed ammirarlo in tutta la sua bellezza mi piace tantissimo questa cassa tonnoe come va a far da contorno a questo blocco centrale un blocco centrale sovrastato da una ghiera davvero ben realizzata fedele all'originale e questa va a abbracciare vedete l'inserto ghiera in alluminio interno insieme vanno a creare quella che è la scala di decompressione utilissima per i sub ha un ottimo grip una giusta durezza un giusto feed non ha lag e chiaramente 120 e unidirezionale ed è ben allineata ragazzi per quanto riguarda il vetro un vetro flat così come il 300t a differenza del 300 che ha un vetro come detto è curvo più vintage ha e zaffero e ha uno strato di antiriflesso interno davvero buono va a proteggere un quadrante in questo caso come detto silver con questo effetto sunburst vedete gli indici come fedeli all'originale sono stampati e non a rilievo datario a ore 3 a ore tra 10 e 12 l'indicazione cisterna a ore 4 indicazione automatic 200 metri sfere anche queste fedeli all'originale che permettono una lettura davvero eccezionale dell'ora ed è fondamentale per un orologio di questo genere pasta luminescente non vi è un'indicazione precisa sul sito di sisterna indicato japanese lume blu quindi molto generico posso dirvi che non è male chiaramente vi metto anche una immagine ragazzi la corona una corona chiaramente a vite con tre posizioni quella basica la posizione 1 che si va ad utilizzare per andare a modificare chiaramente la data cambiare la data e la posizione 2 per andare a cambiare di fatto quello che l'orario ragazzi chiaro è un nh35 dico chiaro perché io dico e penso che su orologi sotto i 1000 euro quindi su una fascia di prezzo parliamoci chiaro entry level in questo caso è molto al di sotto dei 1000 euro è un movimento eccezionale perché è un movimento che costa poco dovessi cambiarlo perché non dà quasi mai problemi è affidabile non è rumoroso e non credo che sia particolarmente poco preciso quindi io trovo che sia un'ottima soluzione e mi piace l'orologio che monta questo tipo di movimento chiusa la parentesi passiamo quindi a parlare del bracciale anche questo va a riprendere piuttosto fedelmente quello che l'originale chiaramente la qualità non è la medesima però è più che buono questo bracciale è un chicchi di riso come vedete abbiamo le due componenti della maglia più esterne che sono che hanno una rifinitura spazzolata mentre i chicchi di riso quindi la componente centrale lucida così come lato maglia anche la chiusura mi convince la è una chiaramente una clasp a deployant è un po rigida si deve un attimo fare all'inizio ma dopo qualche apertura il problema insomma viene a risolversi ed è comunque come vedete tutti i componenti sembrano anzi sono ben realizzati tra l'altro sulla cassetta la spazzolatura è molto fine e abbiamo anche una lavorazione piacevole ovvero la lucidatura sui biseli della cassetta e anche sul lato dove andiamo anche a notare le quattro punti di micro regolazione sicuramente è un buon bracciale non ci rimane che provarlo al polso ragazzi questo orologio pesa 172 grammi pre regolazione chiaramente scenderà un pochino regolandolo al nostro polso non sarà mai l'orologio più comodo della storia del mondo perché il peso comunque è abbastanza importante però cassa tornò che è molto avvolgente e lag to lag a 46 lo rendono abbastanza non particolarmente scomodo e non particolarmente affaticante per quanto riguarda invece l'effetto al polso beh per me è wow è bellissimo questo orologio è bellissimo in questa versione questa colorazione secondo me può essere sia sportivo molto estivo ma anche elegante io immagino un abito quando si ha un altro elemento che possono essere per esempio le scarpe sportive con abito elegante questo orologio diventa eccezionale in un abbinamento di quel genere ragazzi arriviamo alle conclusioni bene lo trovate su aliexpress il link ve l'ho messo in descrizione al momento costa 210 euro ragazzi se lo mettete in carrello capite che è già divato quindi non andrete a pagare ulteriori tasse eccetera almeno così dovrebbe essere quindi un ottimo prezzo ma col mio codice sconto andate a togliere ancora 20 dollari che si traducono in 17 euro quindi da 210 andate a pagarlo circa 193 euro per come è prodotto questo orologio per ogni sua componente eccetera ve l'ho spiegato è un orologio fatto realizzato davvero in modo incredibile a 193 euro io credo che possa considerarsi realmente un best buy è sicuramente un best buy senza personalità chiaro che il doxa è meglio ma il doxa al quale questo va ad ispirarsi fortemente costa 1900 euro un saluto a tutti alla prossima ciao